e allora andiamo dal nostro Don Mazzi buongiorno ciao ciao devo dire che dopo il fatto del pullman devo dirvi che i bambini sono più sveli più bravi e più buoni di noi di noi adulti è una cosa straordinaria sì o sì? sì la frase la frase di oggi Don era questo il pensierino buono? sì i bambini dopo che ho letto che abbiamo letto tutti quello che è successo nel pullman che i bambini sono più sveli più bravi e più buoni di noi grazie Don Antonio adesso arrivano ciao Don